Sindaco, il comune di Barano aveva dato la propria disponibilità per accogliere gli studenti di Casa Micciola e di L'Acquameno. Al momento le classi non sono venute nelle scuole baranesi, però ci è sicuramente un coinvolgimento delle strutture, anche del suo comune, anche per quanto riguarda le attività sportive. Noi da subito abbiamo dato la disponibilità, quando riguarda le nostre scuole, ad ospitare i ragazzi che sono stati colpiti dal terremoto. E' chiaro che si sta vivendo un disagio a livello isolano, perché io sto notando che varie società stanno chiamando per cercare di venire sul nostro campo o nella nostra palestra. Purtroppo gli spazi sono già pieni, c'è questa difficoltà generale. Domani abbiamo una riunione importante all'Acquameno, tutti i sindaci, e secondo me si sta andando proprio nella direzione di far arrivare questi moduli prefabbricati, perché in questo momento ritengo che è l'unica soluzione. Perché i bambini delle materne, io ho avuto anche un incontro con le maestre, mi hanno detto che chiaramente i bambini, in particolare quelli delle elementari, che non riescono, non rendono il pomeriggio. Poi andando di pomeriggio a scuola, chiaramente saltano tutte le attività sportive. E sappiamo quanto è importante per quanto riguarda i ragazzi fare attività sportive, ma anche il catechismo, tutta una serie di attività che loro solitamente fanno il pomeriggio. Sicuramente non possiamo pretendere che i bambini vanno la mattina a fare sport e poi dopo vanno a scuola, mi sembra un controsenso. Quindi c'è questa difficoltà a livello isolano, speriamo di superarla insieme al commissario, perché penso che il commissario abbia l'intenzione di portare questi moduli a Ischia. Ritengo che questo momento, visto che non c'è una prospettiva, è l'unica soluzione. Non c'è quindi una non volontà di aiutare questi ragazzi di Casa Micella e Acquameno, ma piuttosto c'è proprio la volontà di cercare una soluzione che in qualche modo riesca a stravolgere il meno possibile le loro vite? Penso che l'unica soluzione può essere quella di far andare tutti i bambini la mattina. Per farli andare la mattina è solo questa, perché pure a Ischia si sta creando un problema traffico eccessivo, tutto concentrato nel comune di Ischia e poi per questi bambini, ripeto, per quanto riguarda, io trovo il problema grosso proprio perché i bambini delle elementari e forse anche delle medie, loro fisicamente non riescono ad andare il pomeriggio, per loro è molto complesso. Noi avevamo dato la disponibilità da subito ad utilizzare le nostre scuole, chiaramente Forio, Casa Micella e Acquameno hanno trovato più vantaggioso andare a Ischia perché è più vicino. Questo è solo il motivo, per noi non c'erano problemi. Grazie.